Piero Bitetti è candidato al Consiglio regionale pugliese con Italia in Comune a sostegno del governatore uscente Michele Emiliano. Bitetti, parliamo di sviluppo economico e occupazione, è un binomio tra queste due realtà. Taranto merita centralità, ha asset economici da sviluppare, ci sono tutte le condizioni per farlo. Il nostro obiettivo è quello di creare lavoro per le famiglie e creare mercato per le imprese. Ovviamente senza la seconda la prima non è possibile. Abbiamo asset che riguardano l'industria del turismo, l'aerospazio, la navalmeccanica, più tutte quelle che sono le economie già esistenti che vanno migliorate. Abbiamo le condizioni per farlo, dobbiamo soltanto centrare l'obiettivo con persone che conoscono il territorio e che siano capaci di agire dal giorno dopo il voto. Grazie per la visione!